Ciao, allora siamo in uno dei miei momenti preferiti che è il percorso colore ed è il percorso giallo e vi presento una proprio delle attività preferenziali e più immaginarie dello Spiritual Festival che è il body painting. Una delle nostre preziosissime collaboratrici, che ringrazio per aver collaborato anche alla Contalenza Sampa, è Manuela Mancini. Ciao a tutti. E Manuela Cara, lei sei stata l'ultima e come la cittadina sulla torta, dove la torta era da quarta, lei si è presentata e noi l'abbiamo accorta ovviamente come dello Spiritual Festival e tu come ti senti adesso nel tuo mondo dei colori? Io mi seguo onorata intanto grazie di avermi accettato come ciliegina, è bello essere considerata una ciliegina e no, sono contenta perché secondo me i colori, la pittura fanno tutta parte di un percorso che io ho dentro, che riguarda i sentimenti, quindi l'anima e quindi partecipare a una cosa del genere è bello, è una cosa, è una delle cose che ho sempre desiderato, unire il perché di quello che faccio a un discorso che è quello che stai preparando tu, noi e noi, perché è condivisione, co-creazione e co-creatività ovviamente. E allora io direi che silenzio parla in colore. Grazie. 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 Grazie.